Ciao a tutti sono in Puglia, un saluto! Allora questa volta canterò in pugliese, però pugliese è molto generico perché in Puglia si sa che ci sono un sacco di dialetti diversi e quindi chissà quale dialetto canterò. Io sono qui a Otranto con il mio figlio e il mio figlio e il mio figlio e il mio figlio Il mio figlio che adesso sta facendo le foto, ecco l'ho, è sta lulli. Take 2. . . . . non c'è il nome del cangà? è il nome del cangà il nome del cangà Castel Vemonte E credo che questo sia il posto perfetto per cantare Abbascia la marina Abbascia la marina se verno pesce E tu hai niente a me non la vuoi farnesce Quanto è bella il primo amore, il secondo è che me è bianco Ovviamente c'è un motivo per cui Alberobello sia un paese Turistico, super turistico Eccolo, questo è un motivo Come here! Sperito che vedete il frullo, io e l'altro Ciao a tutti e adesso siamo a Polignano a mare Sooo windiii e il caffè è quasi pronto Ciao amici, questa volta siamo a Moffetta For coffee Raidi, queste sono le cozze, se a quando si mangiano le cozze si deve sentire il rumore Va bene, questo è il polipo, le tagliatelle che significa la lieve, le tagliatelle, qui abbiamo le ostriche, assaggiate queste? No, queste sono buone, questo è detto anche il cananicchio, il canestrello, però anche il cananicchio La focaccia pure se ne ho mangiate? No La focaccia Non hai mangiato la focaccia pure lì? E' grave, Aidi Non hai mangiato la focaccia La focaccia Non hai mangiato la focaccia Il canale Non hai mangiato la focaccia Il canale